Ahà, idea! Passa su fifagoin.com e acquista i tuoi crediti a prezzi bassissimi e con il codice Michael 5% di sconto, link in descrizione Salve a tutti ragazzi e bentornati da Make Show Show Siamo tornati di nuovo con FIFA 16 pronti per rispacchettare per l'ultima volta la squadra dei TOTS della Liga Spagnola Ragazzi come al solito c'è Cristiano Ronaldo 99 Suarez, Messi, chi più ne ha più ne metta Ragazzi nella scorsa puntata abbiamo trovato un TOTS ma era della Liga Russa Ora non c'è più nessuno, ci sono solamente questi e mancano 15 minuti scarsi e li toglieranno, lo potete vedere da qui ragazzi, non c'è proprio nessuno L'anno scorso in questo momento l'avevamo trovato Vi avevo promesso di spacchettare con Ambra ma non ci sono riuscito via dei impegni Abbiamo speso un macello di soldi, cosa che non faremo questa volta perché FIFA non mi fa aggiungere i FIFA Points Abbiamo 1900 FIFA Points, 300.000 crediti Però ragazzi prima di andare a spacchettare questi ultimi 15 minuti questi speriamo che troviamo qualcosa vi faccio vedere le sculate che ho avuto qualche giorno fa e poco prima di questo spacchettamento perché c'erano i pacchetti da 100.000 Ragazzi veloci prima che li levano 5 pacchetti da 100.000 scusate se iniziamo subito così ho venduto muto quindi zitti tutti 24 giocatori tutti rari e tutti speriamo un TOTS Mazza come lo so chiamato pure del Barcellona Agnesta maledetto ma perché non sei TOTS cioè non ci credo una volta era TOTS non è TOTS incredibile incredibile guardate veramente tutta gente questo era TOTS vabbè ragazzi Hazard fa il socco perfetto Comand ottimo vale tantissimo ok ok ragazzi al momento al momento al momento io me lo sento un giocatore maledizione della della Liga 88 fortissimo cazzo non TOTS però dai ragazzi puzza puzza secondo pacchetto DC ancora il Barcellona non mi trollare non mi trollare Mathieu ma allevate guarda Mathieu regà 100 100 mila non può non usci nessuno dai penultimo pacchetto ce ne mancano ancora due la telecamera si sta smorzando e non ci credo per ratti vabbè beh ieri in TOTS vabbè dai 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 non posso guardare oh mio Dio ancora mi stai trollando mi stai trollando un altro del Barcellona non ci credo oh allora regà o me fa la sorpresa adesso o non me la fa più eh cioè veramente eh l'ultimo fottuto pacchetto la telecamera mi si sta per scaricare e si Keylor Navas e vai per forza ragazzi e dai cacchio e dai cavolo e vaffancina no me l'ha fatti da tutti del Barcellona quanto vale Keylor Navas un cazzo perfetto Keylor fucking Navas dai così andiamo con i nostri prima con i fifa points li finiamo tutti e poi ragazzi ci niente sfanculeremo tutti i crediti che abbiamo accumulato ehi sono Rafael mamma mia quando si inizia bene no quando si inizia bene dici cazzo tema del Real Madrid ragazzi tema del Real Madrid avrete visto prima che il gioco mi ha trollato malissimo per non mi trovare tutti quelli del Barcellona ma non solo pure avrete visto tipo qualche giocatore tipo Ruffie che tra tredici minuti uscirà Tots porca zozza però vabbè ragazzi ormai ci abbiamo fatto il callo proprio i big scherz oh famo finta che va bene AS del Napoli in signe vedete che me sa che è Tots porca Eva no no non ci posso credere sia in signe che acerbi sono Tots e escono tra dieci minuti portanna la mignotta portanna vai ragazzi mancano dieci minuti quindi io direi che si può iniziare a fare lo schifo otto ah no mancano sette minuti e cinquantanove quindi dai uno uno un altro dici eh Juru cazzoridi Juru Navas l'abbiamo trovato quindi un Tots è stato trovato però noi vogliamo ragazzi dei Tots un po' più cicciosi cioè poi io trovo sempre i maledetti portieri non li voglio portieri voglio tipo un giocatore in mezzo al campo ed ah Chamberlain Iguain ah no ragazzi solo sei minuti ancora sei minuti ancora per crederci per combattere per oh comunque se in dieci minuti non trovo un Tots dici ah John Terry vai torna a casa Alessi torna Alessi in catale cinque minuti ragazzi gli ultimi cinque minuti e noi utilizziamo i nostri fottuti FIFA Points terzino sinistro Baines buono ma non lo voglio della Premier League a logo attenzione ragazzi la signorina Zao con i belli capelli e i belli occhi vi potrebbe st... dai terzini basta Walker che ci devo fare con i terzini ragazzi capito vizcarondo vizcarondo per favore signor vizcarondo 23 di velocità per favore lei è fermo cioè vizcarondo è fermo ragazzi non corre messi 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 no diagite con cui diagite ragazzi no esplosivo sto pacchetto dei non non lo so no dai ragazzi tre minuti tre minuti scarsi per favore droppa tutto drop the base dai con gli skip skippamo niente un cazzo pure adesso oh 222.7.5.6 forza porco 2 il portogallo non me lo fa vedere ultimi due minuti oh mio dio da così vogliamo cr7 dc oh non me lo dite ragazzi che questo era la toz che mi incazzo come un toro due minuti due minuti probabilmente gli ultimi due pacchetti che ci riusciamo a aprire dammi un toz se ti prego ma dai cazzo vai sbrigati musacchio dei miei coglioni dai no la porta è casa miro vabbè cancella sti cazzi via 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 mandiamo tutto via ce ne abbiamo un ultimo manca un minuto ora ora un mai più no mugnain via ultimo forse ultimo forse ce la facciamo l'ultimo aspetta ultimi secondi ragazzi usciamo e rientriamo cr7 cr7 dammi cr7 no un portiero ancora 44 secondi con lo skip rega forse ce ne abbiamo due vai skippamelo oh bam iang maledetto e bravo guarda che c'è 6 dai 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 che ce la facciamo forse un altro prima 31 secondi oddio dai rega che stava sci buona stava sci buona no 17 secondi è l'ultimo non voglio guardare ragazzi non voglio guardare ma secondo me l'avranno pure già allevati chi è aquilani 4 secondi è l'ultimo proprio è l'ultimo se tu madre no ma che ti promo eccoli qua sono usciti i team of the season delle squadre della premier league della liga sporca troia vabbè ragazzi voglio dire che ci possiamo salutare qui per questo spacchettamento siamo stati sfigati abbiamo trovato cioè abbiamo trovato navas abbiamo trovato anche un altro che ho venduto subito però non abbiamo trovato tutti gli altri tots cicciosi quest'anno è veramente sfigato sono usciti i tots della serie A e del campionato francese quindi potremmo tornare a spacchettare per l'ultima volta niente ragazzi mi raccomando lasciate un sacco di mi piace per questo spacchettamento appuntamento ai prossimi video un saluto a tutti da max social alla prossima ciao ragazzi ciao ciao